Ben trovati da Tg della mobilità al via domani, una nuova fase delle potature sulla corsia tramviaria di via Prenessina tra via Bresadole e Largo Preneste tutti i giorni, tranne il sabato e i festivi tram 5, 14 e 19 in arrivo dal centro saranno limitati a Largo Preneste, da qui proseguiranno con i bus sostitutivi. E giovedì 28 aprile trasporto pubblico romano a rischio per uno sciopero nazionale di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 che coinvolgerà la rete Atac e le linee periferiche di Roma TPL, possibili stop anche per i bus della Cotral.